Ecco qua, mentre l'autobus è completamente vuota, completamente vuota. Questo è il modulo della Boschia del Piumicino, non c'è sta niente, nella roncola, nella motosega, c'è solo l'acqua. Non c'è la cassetta degli attrezzi, in fortuna c'è la bomba, vodo, non c'è soccordini, niente, non c'è l'estintore, la spè. Questa è invece la do botte, che poi non può andare sullo sterrato, questo è tutto quello che c'è. Questo è l'amore dei mezzi, modulo boschiva che dovrebbe sostituire la forestale. Ecco qua, mentre l'autobus è completamente vuota, completamente vuota. Questo è quello che ci danno per fare l'antincegno boschivo, quindi un'azione importantissima estiva. I mezzi neanche sono nuovi. Ma non è tanto, tanto che devono far lavorare la produzione civile con tutti i mezzi nuovi. Ah, sopra stanno controllando e vodo pure sopra, non c'è scala, non c'è niente, non si alzano il parapetto, quindi anche i mezzi non sono regolamentali da DL81. Per parlare di se è la scala che si regge con questo, va. Grazie. 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 Grazie.